ciao a tutti e benvenuti in un'altra deck tech di centurion da parte dei mages of lotus prima di cominciare vi chiediamo di lasciare un mi piace commentario iscrivervi al canale attivare la campanella così non vi perdete nessuna novità tra l'altro piccola marchetta abbiamo organizzato con il jolly joker un torneo molto figo ad aprile team trio specialist in cui ci sarà appunto team trio quindi ogni team sarà composto tre giocatori uno gioca modder uno gioca centurion e uno gioca siled il siled verrà costruito da tutti e tre infatti c'è meno tempo per la deconstruction e niente sembra ci sembra un torneo molto spicy e particolare non non ci sembra che sia stato fatto da altre persone una tipologia di torneo del genere e quindi niente partecipate se potete trovate poi nel nel video il link di partecipazione al torneo oltre che la lista che prendiamo in analisi oggi parlando la lista di oggi cioè di azusa lost bus seeking e ci avete chiesto nei commenti di mettere anche magari delle liste che consigliamo in maniera che oltre che parlare solo in maniera generale pur parlè del del mazzo e proprio ci sia qualcosa di tangibile cioè una lista da copiare tra virgolette passatemi il termino comunque da prendere come esempio questa è quella del nostro amico simone che tra l'altro è stato anche anzi è tutto il grafico del nostro canale tutte quante le opere che vedete sul nostro canale fatte bene sono opera sua quindi logo la propic tutto quanto quindi lo ringraziamo ancora allora parliamo del mazzo allora il mazzo non è uno dei vari ti uno del formato i ti uno del formato e quali sono secondo noi l'abbiamo già espresso in un altro video il power ranking del centurion che è diviso in due parti andate a velo recuperare però è comunque un mazzo solido perché il centurion visto che un formato che non ha tantissimo fast mana le rocce di mana e le terra che danno troppo mana sono bannate premia tanto i comandanti che scendono giù velocemente e impattano abbastanza subito quindi insomma che siano molto mana efficienti infatti nella top tier abbiamo gaste gris che sono comandante costante mana per esempio il par 1 è un'eccezione perché incounterabile e azusa scende velocemente ha un power level rispetto appunto quello che ho appena citato più bassi più basso quindi per questo avendo il power level più basso rispetto agli altri due gli altri comandanti che ho citato non non la rende una tier 1 però è comunque una lista che può dire la sua e tutto sommato è abbastanza chip si può anche giocare senza alcuni pezzi della riserva dall'inizio e rendendola fruibile da subito questo è una cosa abbastanza importante perché comunque dell'accessibilità del formato abbiamo parlato e sul gruppo vedo tantissimi post per comunque persone che vogliono cercare di entrare nel formato ma non riescono perché comunque un eternal e costa tanto vorrebbero comunque partecipare e quindi io ho detto sinceramente fossi una persona che non è in grado di comprarsi un mazzo powerhead dei vari tier 1 quindi montato bene ad hoc io direi meglio giocare un tier 2 3 ma montato bene con la lista giusta e le carte giuste che giocare un tier 1 con le carte sbagliate non ottimizzate perché meglio sempre avere un mazzo ottimizzato dopo i vari preamboli comunque parliamo del mazzo in sé finalmente allora abbiamo costo 3 1 1 2 monaca che ci permette di giocare due l'endrop adizionale ogni turno allora e di per sé non offre un granché come potenza nel senso che dipende da quante lande possiamo mettere in più grazie a lei quindi il mazzo va da sé che debba giocare tantissime terre infatti diciamo che la vera base del mazzo ciò che dà la potenza al mazzo sono le terre ne gioca ben 52 in questa lista includendo le double face land quelle di zendikar quelle di zendikar sono molto forti per questo mazzo perché se ce l'avete in mano o in cima al mazzo con le carte che vi permettono di giocare le terre dalla cima del mazzo che sono principalmente la crufix o l'augure dell'autunno le potete giocare perché appunto in quel modo potete farlo e tra l'altro avendo i l'endrop addizionali grazie ad azusa e anche ad altre carte accelerate molto e avete queste carte che hanno la doppia funzione allora tutte le terre verdi che sono un minimo forti vanno giocate quindi o che hanno effetti secondari quindi abbiamo il castello il castello verde la tana dell'idra anche la gingerbread cabin che comunque sembra una carta del cavolo perché alla fine fa solo un food non importa la mettiamo è comunque una foresta comunque fa qualcosa tutte le terre verdi che fanno qualcosa quindi vanno vanno messe tutte le terre colorless che fanno qualcosa sono un minimo decenti del mazzo vanno messe abbiamo cryptic caves che fa pescare le wasteland l'occhio di hugin che comunque questo mazzo ha senso perché abbiamo tanti ciccioni e tra l'altro possiamo andare a cercare i ciccioni pagando sette eldrazi temple comunque ha senso perché giochiamo a tantissimi eldrazi vabbè dark depths la classica combo con dark depths non so neanche più a dirvela è famosissima fortissima quindi tutte le carte terra che sono utili in qualche modo in questo mazzo che possiamo sfruttarle vanno messe perché comunque noi giochiamo sulle terre la cosa vuoi far notare è che questo mazzo gioca sia la urborg sia la yamaya la urborg la si può giocare perché la color identity la urborg non è nera non ha simboli di mana nero sopra quindi è giocabile in questo mazzo perché la giochiamo per poter avere più mana colorato possibile dalle terre colorless perché per compensare il fatto che giochiamo mono color dove ammettere più terre possibili che facciano effetti potenti solo che quelle verdi come ho detto prima comunque finiscono dopo un po' e non ne abbiamo tantissimissime quindi dobbiamo mettere tutte quelle col colorless che fanno qualcosa o quelle che addirittura non danno mana ma hanno effetti fortissimi come il gracia al chasm questo ci crea problemi nel senso che poi abbiamo a parte il fatto che comunque siamo magari più deboli da blood moon e altre carte del genere e che in verità queste carte qua non ci coprono comunque però questo è già una pecos per cercare però di mettere a posto almeno il lato del colore in condizioni in condizioni normali giochiamo queste terre qua perché può sembrare strano perché un mazzo monocolor però questo mazzo si potrebbe chiodare di colori perché giocando così tante terre colorless magari apriamo una mano con solo una fonte colorata verde o addirittura zero ma avendo magari questa qua possiamo ovviare al problema perché tutte le nostre terre colorless adesso sono anche foreste quindi problem solved allora l'obiettivo di questo mazzo qual è quindi come va giocato va giocato che tutti gli accelerini a 1 che quindi ci permette o le terre che danno 2 mana che entrano tappate e così via comunque tutto ciò che ci accelera che ci fa passare da turno 1 a turno 3 dal punto di vista di mana va giocato questo perché? perché così possiamo subito buttare giù a Zusa appena Zusa scende il nostro obiettivo è poter mettere più l'endro possibili da qualsiasi parte possiamo metterli quindi condizioni normali dalla mano se abbiamo delle carte che ci fanno andare anche da altre parti anche da altre parti meglio che quella sono le mini combo una mano ideale di questo mazzo sarebbe terra celerino poi turno 2 terra a Zusa mi svuoto la mano mettendo altre due terre e mi ritrovo poi con potenzialmente a turno a turno 3 con 5-6 mana e a quel punto subito buttare giù un ciccione quindi buttare subito giù uno dei vari bumbuluni del mazzo ne abbiamo tantissimi da place walker fortissimi a creature giganti Titania Ugin quello costo 6 il green warden che ci fa andare in modo del cimitero questing beast primeval titan tutte carte così quindi tutti i ciccioni che sono davvero efficienti sono da giocare poi altre carte importanti sono le carte che ci fanno andare dalla cima la più forte di tutto è l'oracola di Muldaia perché ci dà anche l'endrop addizionale quindi le più a Zusa sono 3 l'endrop in più quindi vuol dire che tutto dalla cima se abbiamo 3 terre di fila è facile che le mettiamo tutte e 3 ed in più ci si è migliorati la pescata perché quelle terre è come se le avessimo pescate quindi molto 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 forte e allora il mazzo bene o male la strada è questa le carte da giocare un po' l'abbiamo discusso non sto a ripetere carta per carta quelli sono proprio quelle necessarie bene o male quelle più importanti le ho sottolineate il resto poi potete vedere tranquillamente nella lista allora andiamo a vedere un attimo i matchup e e poi anche perché montare questo mazzo e poi anche il lato economico che comunque lo analizziamo sempre allora il matchup di questo mazzo allora contro i mazzi aggro quindi aggro spinti questo mazzo può avere qualche problemuccio in base alla mano allora se è il classico aggro che non interagisce l'avversario arabo per 10 mazzi così e noi abbiamo la classica mano esplosiva con azusa turno 2 e turno 3 ciccione ce la caviamo molto bene perché aggro non interagisce non ci ammazzerà 8 su 10 la azusa noi mettiamo giù subito un ciccione accelerato che gli blocca praticamente il board lui non passa più o comunque troppo grosso e forte per poter essere gestito quindi gli aggro sono mazzi che comunque ce la cambiamo bene il problema sono i mazzi aggro tempo e i mazzi tempo i mazzi aggro tempo e tempo sono un matchup brutto per questo mazzo quindi per dire classico ghast e compagnia cantante perché? perché se loro ci mettono pressione dall'inizio combinata con la loro chip disruption quindi i counter a costo 1 e così via che ci bloccano i vari ciccioni perché basta tappare 1 o 2 mana per eliminarceli tra l'altro anche nel nostro turno o giocano un mazzo tempo con anche gli scartini quindi una disruption leggera più anche una dovuta pressione per carità perché con questo mazzo se non gli mettete pressione vi fa un buco in testa perché può tranquillamente poi calare sui ciccioni indisturbato purtroppo ci mandano a gambe all'aria quindi appunto mi ripeto i matchup aggro tempo e tempo non sono affatto belli per questa problematica qua cioè la combinazione della pressione dall'inizio più l'interazione chip poi i mazzi combo veloci anche lì sono abbastanza problematici perché siamo monoverdi non abbiamo chissà che interazioni il nostro piano contro i mazzi combo e calare il ciccione più in fretta possibile come sempre però magari molti di questi ciccioni in quei matchup non fanno niente per esempio se l'altro è un mazzo combo spinto e li caliamo titania lui ci dice vabbè ci metti tanti 5-3 ma me che me frega quindi si riduce il numero di carte influenti accelerate che possono essere forti alla fine per dire contro i combo vorremmo risolvere un eldrazi però il problema è che l'eldrazi comunque non lo facciamo così in fretta cioè lo acceleriamo e lo facciamo anche tanto in fretta per carità ma comunque magari non in tempo utile mentre le altre creature comunque grosse magari non fanno abbastanza in tempo per dire tra l'altro un combo tutte queste creature qua costo 6 che fanno value come il woodland bellower e così via non fanno granché quindi i combo non sono un buonissimo matchup controllo i midrange invece sono dei matchup bilanciati e mi sento di dire che allora contro controllo in base alla lista dell'altro controllo perché ci sono vari tipi di controlli possiamo essere o alla pari o la pari o leggermente sopra perché come siamo un mazzo lens i controlli sono mazzi che le lens non le possono controllare bene perché i mazzi controlli tendenzialmente hanno il blu e per fortuna le terre non le puoi counterare quindi il nostro piano contro quei mazzi diventa fare tantissime terre tutti i turni e ogni tanto proporre una minaccia fino a quando poi non caliamo le minacce che praticamente negano la risposta all'avversario quali sono queste minacce che negano la risposta gli eldrazi sostanzialmente sono gli eldrazi perché tanto hanno effetti sul cast tu puoi fare quello che diavolo ti pare tanto io comunque due pezzi con uno ma che te li mangio un pezzo con quest'altro mula ma che te lo mangio se per sbaglio entrano questo ti fa annichilire 4 quando attacca questo ti esilia le carte dal mazzo il cosile che se entra pesco 4 quindi comunque anche se tu cioè devi forse rispondere a cosile se no ho un 12-12 con annichilator 4 quindi comunque va risolto perché se no perdi però anche se lo risolvi in qualche modo comunque cosile può essere counterato distrutto esiliato tutto quanto però io ho 4 carte le ho pescate quindi anche lì aia quindi contro i middrage e il controllo ce la caviamo bene perché possono interagire finché vogliono ma alla fin fine se noi riusciamo a fare le nostre terre in più e poi buttare una di queste carte qua loro se la vedono molto brutta quindi come avete visto bene o male è abbastanza bilanciato come mazzo per quanto riguarda i matchup contro gli aggro se la cava contro i middrage e i contro se la cava alla fine per carità uno di top tier del formato di tempo e quindi contro quel mazzo tendenzialmente si perde però non si può avere tutto dalla vita dal lato economico questo mazzo allora conviene allora diciamo di sì perché comunque questa lista che abbiamo preso è abbastanza ottimizzata e notate che di carte super super costose non ha tantissimissima roba c'è ancora qualche altra cartina costosa in riserva che si può mettere probabilmente però notate che alla fin fine è tutta roba reperibile che si può anche trovare a buon prezzo molte cose sono anche ristampabili e quindi magari poi le ripropone la wizard in qualche modo e si riescono tranquillamente a recuperare un buon prezzo sul perché montare questo mazzo allora perché comunque i matchup come abbiamo già detto sono abbastanza bilanciati quindi uno non è un mazzo che non fa niente che perde solo e che non è in grado di fare nulla quello è assolutamente una falsità e due è un mazzo bene o male che richiede un investimento medio e si può riuscire tranquillamente a montarlo in versione top senza avere carte subottimali quindi per chi si sta avventurando ora in questo formato eternal che comunque è costoso perché appunto è un eternal può essere una buona opzione se non è in grado appunto di montarsi un mazzo che abbia le duale comunque tutta una serie di carte costose che non può reperire e tre è comunque un mazzo divertente è un mazzo che comunque è esplosivo voi fate questa zusa turno 2 molto facilmente poi iniziate a mettere tutte queste terre cioè è proprio il classico mazzo da timmy che è un modo per dire di un giocatore di magic e gli piace proprio mettere terre ciccioni terre che c'è creatura grossa terra creatura grossa ed è divertente effettivamente perché comunque fare turno turno 3 Ugin questo Ugin costo 6 o titano primitivo qualsiasi carta bella grossa a me sembra bello divertente iniziate a fare queste cose super potenti e belle quindi in definitiva mazzo super approvato e divertente detto questo spero che il video vi sia piaciuto spero che vi sia piaciuto di leggere migliorie il fatto che comunque abbiamo discusso del mazzo un pochino più in depth e se vi è piaciuto lasciate un like che è molto importante per noi ci vediamo in un altro video come sempre e stay tuned per le novità varie come appunto il torneo che abbiamo detto all'inizio video ciao ciao e alla prossima ciao